Ciao mare, sono io, papà Carlo. Purtroppo siamo qua in questa situazione che non si può continuare completamente. Già nel periodo avremmo un tempo che è quello che è giusto, ma poi dove c'è una situazione dovuta, forse mi aspetto fisico nel periodo leggerissimamente ributtante, cioè sullo schifoso completo, e che procura diciamo uno stato di insofferenza da parte del sesso femminile nei miei riguardi, che ha provocato uno stato di depressione nel mio fisico, nel mio organismo, che si manifesta con cette cagarelle gigantesche, cioè praticamente mi viene qualche coppo di colite pazzesca, pare che mi sta frantumando di un residuo di cuolo all'ocaio, cioè praticamente, pare, a te lo dico perché sei l'amico, di belle cagate di una vuota, bene, di monsette di merda, che allinghiavano praticamente una ceramica, tappo, non c'è sui cuoi, di soddisfazione che ti pigliate dopo pranzo, non c'è sui cuoi, ora praticamente è un periodo che c'è su sti filarini di merda liquida, che praticamente ti fanno innervosire come un bacio, io purtroppo lo già faccio, è questo problema, forse è dovuto a due problemi che ti dicevo prima, a questo stato, diciamo così, di liquefazione merdaiola, comunque, un mare di saluto, ti ringrazio per la telefonata, e ti dico, mare, prega per me affinché questo stato veramente insopportabile sia felice e che ritornino di belle cagate di una vuota, che ne pigliamo di belle soddisfazioni, ciao bello, ciao, ciao, una maestra, ciao.